Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è, nel mio amore buongiorno per dirmi che lei si è per prima Buongiorno amici, l'obbligo di usare il POS dall'inglese point of sale, punto di vendita, inteso come terminale di pagamento, il dispositivo elettronico che consente di effettuare pagamenti tramite carte di credito, di debito o prepagate, che corrisponde alla moneta elettronica virtuale, si traduce di fatto nella fine del denaro contante. Nel momento in cui i commercianti, gli artigiani, i liberi professionisti, le aziende, le associazioni, la pubblica amministrazione e persino i venditori ambulanti saranno obbligati a usare il POS, anche per il pagamento di un euro, di fatto il denaro contante, non venendo più accettato da nessuno come forma di pagamento, finirà per non valere più nulla. E nel momento in cui tutte le transazioni finanziarie, dall'accreditamento degli stipendi o delle pensioni, fino al pagamento della tazza di caffè, avverranno obbligatoriamente attraverso le carte digitali, che sono gestite dalle banche soggette all'intervento delle autorità giudiziarie e amministrative pubbliche, noi potremmo ritrovarci limitati o bloccati all'accesso dei nostri soldi. Di fatto perderemo la certezza di poter usare i nostri soldi conformemente alle nostre priorità e, di conseguenza, perderemo definitivamente la nostra libertà che incide sulla nostra dignità e che mette a repentaglio la nostra stessa vita. Ebbene, noi italiani siamo a un passo da questa tragica realtà che si tradurrà nel colpo di grazia, da un lato a quel poco che resta della nostra sovranità nazionale dopo aver definitivamente rinunciato alla sovranità monetaria, e dall'altro alla libertà di scelta, che trasformerà definitivamente i cittadini in sudditi della dittatura dello strapotere della grande finanza speculativa globalizzata, che comanda gli stati nazionali e ci impone dei governi asserviti. La Banca d'Italia e l'Unione Europea, attraverso il cosiddette PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e di Residenza, ci hanno imposto l'uso obbligatorio del POS perché contrasterebbe la finanza della criminalità organizzata e eliminerebbe l'evasione fiscale. Ebbene, in Italia il principale evasore da decenni è lo Stato, che non ha pagato in modo puntuale le aziende per i servizi alla pubblica amministrazione, mettendole in seria difficoltà e talvolta condannandole a chiudere. Ma soprattutto in Italia, sul piano della legalità e della moralità, lo Stato è totalmente screditato in quanto ladrone perché costa troppo, corrotto perché trafuga il denaro pubblico, inefficiente perché offre servizi inadeguati, vessatorio perché impone imprese e cittadini circa il 70% di imposte dirette e indirette a Guzzino, perché condanna morte chi non ce la fa. La verità è che in Italia la vera mafia è lo Stato, così come nel mondo la vera criminalità organizzata è la grande finanza speculativa globalizzata. Cari amici, la Casa della Civiltà propone il riscatto della nostra sovranità monetaria, che significa che è lo Stato a emettere direttamente la moneta a credito per porre fine alla spirale suicida dell'indebitamento forzoso dell'euro, che è una moneta bancaria straniera a debito, che si traduce in un debito incontenibile e inestinguibile. Chiede che la moneta torni a essere un semplice strumento che parametra il valore della ricchezza, che si sostanzia dei beni prodotti e posseduti, ma la moneta non deve essere di per sé la ricchezza. Vuole che si rimetta al centro l'economia reale, in un contesto dove lo Stato definisce le strategie di fondo, mentre la gestione viene affidata alle nostre imprese, principalmente le micro, piccole e medie imprese che rappresentano oltre il 90% del sistema di sviluppo. Cari amici, andiamo avanti a testa alta e con la schiena dritta, forti di verità e con il coraggio della libertà, con l'aiuto del Signore, insieme ce la faremo, a far rinascere la nostra civiltà, a salvare gli italiani, a riscattare l'Italia. Buongiorno amici. Grazie.